Musica A due signori sui 95 anni si incontra Ma come ti trovi in forma? Qual è il tuo segreto? Semplice, la mattina vado in palestra, la sera vado a ballare Ma ti diverti? Porca miseria, pensa che l'altra sera ho rimorchiato un ragazzo di 50 anni E' venuto a casa mia, ma veramente? Ma cosa ti ha fatto? Mi ha bendato e mi ha legato al letto E t'ha ciulato? Tutto, anche le tende